A Badia Sicile, antico monastero incastonato tra i tesori artistici e culturali del panorama senese, oggi splendida location per matrimoni, vi darà la possibilità di vivere questo giorno speciale in modo fiabesco. La location vi ospiterà in eleganti spazi perfetti per un elegante banchetto in ogni stagione dell'anno. Le sale interne presentano ancora lo stile originale. Infatti, ancora oggi si trovano travi in legno e pavimenti in cotto. Un cortile interno e il suo ampio parco con piscina permettono di organizzare il vostro romantico ricevimento noziale all'aperto durante i mesi più caldi. Per chi desiderasse organizzare la propria cerimonia di nozze in loco, a Badia Sicile offre spazi esclusivi per scambiare le promesse d'amore in un contesto magico. Presso a Badia Sicile troverete uno staff qualificato e cordiale che si metterà a vostra piena disposizione per organizzare in maniera impeccabile il vostro fantastico giorno di nozze. La cucina di Badia Sicile vi darà l'opportunità di creare un menù nuziale personalizzato, dove verranno proposte le migliori ricette locali e nazionali. Allestimenti curati, piatti presentati con raffinatezza ed un servizio eccellente faranno del vostro banchetto un'esperienza indimenticabile.